Oggi pomeriggio l'attracco per le 17, si tratta dell'ottavo sbarco al porto di Ortona, appena dopo la rapida salita a bordo delle autorità marittime e sanitarie per i necessari adempiamenti burocratici. Quindi il trasferimento con due pulmini della Croce Rossa è incontrata a Tamarete, nella zona industriale della città, dove è stato allestito il punto rodato di prima identificazione. Qui le visite mediche e l'identificazione finale da parte della questura con l'auspicato ricongiungimento familiare, la cena, la ripartenza verso i centri di accoglienza. 35 profughi provenienti tutti dal Bangladesh che per tre notti hanno sfidato le onde a bordo di un'imbarcazione salvati dalla Ocean Viking nelle acque internazionali tra Italia e Malta. La Croce Rossa ha messo a disposizione ambulanze e pulmini che si muoveranno scortati dalle pattuglie della Polizia di Stato, poi le destinazioni pare nelle province di L'Aquila, Teramo e Chieti. I profughi sono tutti maschi e maggiorenni, pronta l'attenso struttura divenuta ormai permanente in località Tamarete, come detto a Ortona, su un'area messa a disposizione dal Comune alla Protezione Civile. Tutta l'operazione sarà coordinata dalla Prefettura di Chieti con i diversi attori coinvolti.